E' caduta da una terrazza mentre guardava i fuochi d'artificio della festa patronale di Ostuni. Poteva trasformarsi in tragedia la disavventura di una donna di Tutturano che mercoledì sera si era recata nella città bianca per ammirare lo spettacolo pirotecnico per Santo Ronzo a casa di alcuni parenti. All'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduta precipitando un piano più in basso, per fortuna senza battere la testa. Immediatamente sono stati chiamati soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che con il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni l'hanno assicurata con una barella spinale e quindi trasportata in codice giallo all'ospedale Perrino di Brindisi con vari traumi. Per fortuna non corre pericolo di vita per lei e per i suoi familiari un grande spavento che poteva avere risvolti ben più drammatici.